Sì, Giorgio, mi hai convinta di quattro e quattro me lo vedo che cazzo è. Oh, Marina, donna dal nome impiantevole, non pestare ascolto alle cialce di questo bilanzone mentecatto. Altro non so anche Charlie, le sue, con cui tenta di allettarti. Uè, voglio, non si bocca mezzare da fè, ha da l'altro in giù pezzo che da buona a fè me la domanda. E' un po' perdo mente che c'è stai unica volessa ancora la tante, cù, c'è tu. Non ascolti, cara, dolce e invidiabile creature, avverti quanto sia scarne le sue patoltà intellettive. Come potresti tu, così meravigliosamente vezzosa ed avvenente, lasciarsi andare con un coriaceo e insipiente pazzo tuo? Beh, penso proprio che tiene ragione. Quasi, quasi, me ne vengo con te. E' un'altra cosa. Non andava dentro, accolta, Marina! Ute, è un brigione matriculato! Marina, è un brigione matriculato! Sono sicuro che non ne è sincero. E poi mi boccava gli spugno un picco di zemì. Ma no, ma non mi sembra, senti. Ma no, è così, senta a me. È così. Ma no, ma ne vedi. Mi lo vedi, lo vedi con me? Ma che mi lo fai? Che mi, a che mi lo fai? Quello che non c'è la cuore. Ma no, no, no. Oh, quale orrore per la natura, l'avere i tuoi limacciosi occhi, posato seppure per qualche istante, il tuo sguardo ignobile su di una nobile poella, qual è? Passione del mio sangue, vita della mia vita, che oramai mi appartiene. Oh, a come parlo buono, è proprio l'uomo dei miei sogni. Sentite ragazzi, io sono pensato, ed ho fatto la mia scelta, ed ho capato a... A me, a me marina, a me, oh mia delicia. Sì, a sdrupale, capico a te. Oh, quale sublime, Gaudio. Gioia infinita, felicità suprema. Misere sono queste parole, per fare salti quanto felice sia il mio cuore. No, marina, non si faccia, non si faccia, marina. Mi dispiace sinceramente, Giorgio, ma io mi sento stregata, tutta griscio, tutta giglio. Ma io, a me, a me, a me. Non ci sbacca chiamiamo! Meno male che non andiamo a tutti i suoi! Se no, fondra a me! A provo maverne a vostro cuore! Proprio a me! Aioio! Punto Giovanna di Parence! Sì! Capo! C'è proprio il primo mezzo e il pundito sul pallino! Che da marina mi chiede tanto fa? Se no, attacchiamo il dono buonavone e tenevamo noi che sgratti! Non nasce! Non nasce che avevamo lo sperone di Gargano! Una voce che mi ricorda Dracula il bambino! Doga! Cap'era la voce le binari della Barino! Sì! Insomma! Insomma! Mi ricorda la panatta! Gli trovo qui la racchietta! It's the frigate! C'è l'evasce pace! Minaco! Ma che è? Da più a me! C'è l'evasce pace! Andiamo a fare tutto parecchio! C'è l'evasce! C'è l'evasce! E' l'evasce! Adesso! Scusa! Giovanno! Si viste come una azione d'una fe, una studiata che sa pagina a parlare? C'è! Marina! Ah! Sape un po' a consechiare! Bravo! Bravo! E non solo, non solo, se a ci porci questo lo faccio. E ce lo stiamo? Ma la stiamo stacchi in me, preferisco non parlare. No, è modo da parlare, non si fa c'è il chiamino la pepia a scollare. Ma, ci proprio vuoi sapere, che la Marina mi dispiace, mi dispiace il tuo cuore di condotto da domenamente. Ma altro non è, che la femmina è da malaffare. Io, sono tì, io. Ma, non capisco il progetto, come c'è proprio oggettivo. Si dà il caso, che ho una rete che la femmina è da malaffare, a come la si chiamano il vostro rete, so ieri. E le calugne non mi piacciono. Paolo, da parlare malo di cristiano, fa pochè. Pizzer mi chiede, che la cangi li, tacco militari e cangiuga veramente. C'è un progetto! Guardi il gioco al suo cuore, patto, il gioco al suo cuore. Grazie. Grazie. Sì, infatti sto proprio aspettando il mio marito, che arriverà da un momento all'altro. Matteci con un bote. C'è un bote, un gioco piccato di due. Mi tengo la mia pelle e la custodia del cameraman. Gli occhio, li odio, li detesto. Anzi, cosa faccio? Cosa faccio faccio? Non piccare questa macchina. C'è l'altro da qua tu? Né. C'è l'altro da qua tu? Niente. Non c'è l'altro da qua tu? Niente, non c'è l'altro da qua tu. Io no. Non c'è l'altro da qua tu? Niente. Ma adesso non c'è l'altro da qua tu? Eh, ma per come che mi avessero per acqua le moroglie, eh? E lì, lì è arrivata a casa, a casa. Pusse malattano, ma spettuto. Ma domanda da come me mette. E non mi ha venuto mai perché vi ho vieno. E proprio senza creare. Magno. Cosa c'è la donna chiamare la moglie? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Avevo un sacco. Bene, bene. Non ho mai so specializzata a cuscarlo. Visto che c'è, ma ora! Vado! 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 Aiutate! Aiutate! E' mo', ma... ...è un po' di banca che sto dovendo essere proprio scannare... E' mo', e' mo' l'è da averca ne fatti chi mangiamo... ...è da averca ne fatti chi mangiamo... ...è vado anche a frega che si inghiando a stare... ...na mettermi giustesse. Ehi! E' mo', provatecibacchiare! No, vedo, vedo! Si, vedo! non ci ha successo non ci ha successo proprio l'uomo per tu mi hanno fatto cosa non ti hanno fatto cosa ti ha dato una bella notizia no, guarda cartolina precetto, chiamata le armi si è fermato il palazzo del palazzo mance bene questa la spaz e dove mi è andato all'esercito o in aviazione ne all'esercito e nell'aviazione ma l'arma più bella in marina in marina e moci di far che c'è caldo o c'è caldo o caldo o caldo stai pesadetto no, no, no non ci ha fatto o caldo o caldo o caldo o caldo o caldo come dice che il posto è niente non capisco come è tutto il gente ora tu porti l'aposso ai mi hanno e ci ti ha che la vinta e qui ti ignora Mado!